Io sono Elena Gallo e sono la proprietaria insieme a Mario Bartoli, mio marito. Sono Mario, della fattoria di Corsignano, il marito di Elena. Io, a differenza di Elena, che è il Piemontese, trabimentato in Toscana, sono nato lì, ha quattro nomi da Corsignano e quindi sono del terroir come il San Giovese. Le nostre etichette sono tutte etichette di un artista italiano, Mario Gambedotti. Per noi l'idea era, oltre il vino, mandare nel mondo l'arte italiana e quindi la creazione dei singoli vini, a poco a poco, che rappresentano gli step della nostra vita. La coppia, quando praticamente ci siamo messi insieme, poi c'è un'altra bottiglia che si chiama Gli Sposi, quando ci siamo sposati, c'è un'altra, l'imperatrice dedicata a nostra figlia, l'imperatore a nostro figlio. Quindi sono una vita narrata attraverso il vino. Noi lavoriamo sia nel turismo che nel vino. Il turismo è un mondo molto rapido, tutto immediato, tutto fatto di, veramente, di, hai pochissimo tempo, no? Per dare risposte. Il vino, per quanto tu voglia essere veloce, allo stesso modo, è impossibile. Il vino ti tiene sempre pieni per terra e ti fa vedere il tempo della natura. Se puoi decidere qualunque cosa e devi essere pronto a cambiarla perché non lo puoi fare. Questo ti tiene sempre legato a terra.